Presidente Raineri, il concorso di poesia internazionale del circolo Parasi è arrivato al suo epilogo con le premiazioni che si svolgeranno sabato. Domani, ore 17.30, sala consigliare della provincia di Imperia, conclusione e premiazione del sesto concorso internazionale di poesie. Concorso patrocinato dal comune di Imperia della provincia di Imperia, sostenuto dalla regione Liguria, altresì coadiuvato dal Ministero della Cultura Argentina e Peruviana ed ecco perché l'internazionalità, 187 partecipanti, un numero enorme per un concorso di poesie, una giuria veramente valida e capace con la presidenza onoraria di un nostro concittadino, grande illustre con il cittadino Giuseppe Conte, domani premiazione e logicamente congratulazione con i vincitori. Quello che mi preme sottolineare è questo aspetto, quando si parla di poesia logicamente i numeri non sono i numeri di altre realtà o di altre iniziative. Un concorso che in solo sei anni è passato da poche decine di iscritti a quasi 200 partecipanti ritengo che sia un concorso che ha raggiunto la maturità, cioè un concorso apprezzato per la serietà della Commissione, per la capacità degli organizzatori e direi per un pubblico che ha apprezzato quello che si sta facendo anche in questo campo perché è anche questo un contributo per far conoscere la città d'Imperia, infatti il concorso è Parasio Città d'Imperia ed è un'iniziativa inserita nel calendario aspettando il centenario della città d'Imperia.